Bentornati e bentornati a Visioni, Raina, Marico, una serie di incontri a cura di Grio in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba. Il nostro ospite di oggi è Avalon, rapper. Ciao Avalon, come stai? Sono a posto, bene bene, piacere essere qui. Avalon, tu sei un rapper emergente della scena italiana e negli ultimi anni ti sei fatto molto spazio, soprattutto nella scena locale a Bologna. Sei considerato anche tra le voci più interessanti e talentuose del panorama rap. Come muovi i tuoi primi passi nel mondo del rap e quali sono state le tue più grandi influenze? La mia passione per il rap è una cosa che c'è sempre stata, sin da quando ero un bambino. In casa mio fratello e mia sorella mettevano sempre tracce hip hop, insomma era molto la wave, diciamo, l'onda. E ho sempre coltivato un amore per l'hip hop, il rap, anche l'R&B, soul, ma anche la black music in generale. Ma la mia passione, proprio la voglia di cominciare a scrivere, a fare hip hop, nasce verso i 13-14 anni, quando stavo ancora a Disaveva in Etiopia, appunto, con un mio amico chiamato Johannes, che in arte si chiama Jordan August. Ci siamo messi a trascrivere i testi facendo play e pose di vari artisti come Tupac, Biggie, Eminem, Mos Def, Rakim, un sacco di questi artisti qua, fino a che piano piano abbiamo cominciato a scrivere i nostri pezzi, a registrare in cameretta, così insomma cominciamo a coltivare la passione per l'hip hop. E quali sono state le prime esperienze significative in questo mondo, sia in Italia che in Etiopia? Le prime esperienze significative sono state verso i 17 anni, quando ho fatto la mia prima battle rap. Ho visto che la gente era presa delle cose che scrivevo, ho vinto un contest e da lì ho detto ma forse questa cosa può anche fare per me, anche perché è la mia passione. Ho detto proseguo su questa strada. È una strada che ti sta dando soddisfazione, infatti poi ho una domanda che ti faccio più avanti, legata anche a questo percorso. Tu sei nato in Italia, Avalon, e all'età di un anno poi ti sei trasferito in Etiopia, hai vissuto lì per vent'anni ad Addis Abeba per poi tornare in Italia. Come hai vissuto questi salti geografici, sociali e culturali, sia in Etiopia che quando sei tornato qui in Italia? Sì, io ho frequentato la scuola italiana, sin dall'asilo fino alle superiori. In pratica è sempre stato come stare in Italia, perché una volta che stavi nel compound della scuola italiana si parlava in italiano, però c'era anche un mix di culture diverse, insomma la cultura etiope con quella italiana era un po' una fusion. Appena uscivi dalla scuola italiana stavi in Etiopia, quindi venire in Italia per me è quasi come se fosse venire in una seconda casa. Non è che mi sono sentito completamente fuori luogo, anche perché la lingua l'ho sempre parlata a livello madrelingua. Infatti la gente mi dice sempre, ma tu dove sei nato, dove sei cresciuto? Io dico Etiopia, loro dicono sì, ok, va bene, però in Italia dove sei? Io dico no, sono etiope, però ho fatto la scuola italiana e infatti non si capisce mai questo gap che c'è. Noi nella scuola italiana eravamo visti un po' come quelli alternativi, ma come tutti gli altri anche facciamo nelle scuole internazionali, come quella francese, come quella inglese, come l'ICS, la scuola americana, non era, cioè si vedeva che c'era un distacco netto tra il resto delle persone e le altre persone che erano anche influenzate da un'altra cultura, insomma. Questa cosa poteva avere un vantaggio, anche uno svantaggio, insomma, certe cose in Etiopia sono tabù, tipo anche se banalmente fumare le sigarette lì fuori alla scuola, al compound, la gente ti guardava male, ma proprio normalmente perché è una cosa che nella cultura etiope, magari adesso quella globalizzazione diventa anche più normale, però ai tempi quando io facevo scuola italiana era abbastanza… c'era un po' di tensione, però diciamo che nulla di che. Allora, rispetto a queste dinamiche e anche ai punti che abbiamo affrontato prima, tu scrivi il rap in tre lingue diverse, italiano, amarico e inglese, in che modo scegli di utilizzarle, cioè come scegli di utilizzarle e che aspetti di te e della tua esperienza personale comuni con ciascuna di queste lingue? In pratica io lascio tutto in mano all'ispirazione, non è una cosa che scelgo io attivamente, può essere che sto fuori casualmente un giorno con amici o a fare varie attività, che vedo qualcosa oppure mi viene qualcosa in mente, una catena di pensieri che butto giù. La lingua spesso, cioè io scrivo in inglese molto spesso perché è quello che sono abituato a fare, dato che ho sempre ascoltato l'hip hop americano, mi viene da scrivere in inglese più naturalmente, se scrivo in italiano è perché da quando sono in Italia ascolto anche l'hip hop italiano e adesso sono anche ispirato e motivato a scrivere anche in italiano, in amarico anche, però un po' di meno perché è una lingua molto complessa, poeticamente è una lingua, è una cultura molto ricca, cioè ci sono stati un sacco di artisti, poeti che con pochissime parole riuscivano a spiegare concetti proprio immensi, quindi non mi sento all'altezza di usare l'amarico per scrivere delle cose banali, quindi è una cosa che secondo me ha bisogno di più ricerca, più cura, devo informarmi ancora di più, acculturarmi ancora di più su molte cose, comunque la prima lingua che abbia mai imparato è l'italiano, poi ho imparato l'amarico, poi ho imparato l'inglese. Sì, infatti nel 2019 sei uscito con il tuo EP di esordio, Black Lion, un lavoro che attraversa lo spettro sonico, tematico e linguistico del tuo processo artistico, come nasce questo lavoro e quali sonorità e sfumature dell'hip hop contemporane hai voluto includere nel tuo disco e perché? Black Lion praticamente è nato a caso, cioè nel senso non pensavamo mai con Yuri Ogibit, che è il produttore dell'EP, che sarebbe diventato un EP, abbiamo fatto la prima traccia che si chiama Chillin, che è quella che ha avuto maggior successo nell'EP ed è nata casualmente, che ci siamo beccati così a fare balotta, come si dice a Bologna, in zona Saragozza, che lui si è messo là a fare un beat al momento e io mi sono messo a fare freestyle e ci piaceva. E niente, l'ho chiamato Black Lion perché io sono leone, il leone poi è un simbolo molto etiope, diciamo, anche Tukurambessa che si chiama leone nero, è tipo un simbolo etiope, ci sono scuole, ci sono ospedali che si chiamano Black Lion, cioè in amarico Tukurambessa, e quindi pensavo che mi rappresentasse di più come titolo, come cosa. L'EP è composto di sei tracce, è disponibile ovunque, ne parla un po' di me, c'è un po' di contenuto in inglese, in italiano, nel prossimo magari ci sarà anche qualcosina in amarico. Stiamo a buttare giù la roba molto bella, con campioni anche etiopi tra l'altro, quindi c'è da vedere cosa ne uscirà. Da il 2019-2021 può essere un tempo di gestazione giusto per la creazione di un nuovo lavoro, di una nuova opera. Avalan, grazie mille per essere stato qui con noi e aspettiamo di ascoltare il tuo nuovo lavoro in relazione anche al fatto che includerai più elementi amarici all'interno del tuo lavoro. Grazie, ciao. Grazie per avermi avuto, è stato bello parlare. Alla prossima, ciao. Ci vediamo la prossima settimana con un ospite di Visioni, Rai. Grazie a tutti.